In arrivo la fibra ottica a banda ultralarga fino a casa, un annuncio che interessa i cittadini di Atena Lucana e arriva dal consigliere delegato all'e-government Vincenzo Bruno. Hanno preso il via, fa sapere, le operazioni per la realizzazione della rete in fibra ottica FTTH ad opera di Open Fiber, la società per azioni chiamata a realizzare l'infrastruttura che consente ai cittadini e imprese di accedere a internet con prestazioni all'avanguardia. Intanto sono in fase di ultimazione i lavori della team che collegherà in fibra ottica FTTC l'intero territorio urbano di Atena Lucana a Scalo. Sono già state posizionate 4 delle 5 cabine previste. L'ultima in via stazione verrà collegata a breve con la nuova rete FTTC che permetterà ai privati e alle aziende della frazione Scalo di navigare per ora ad una velocità fino a 200 mega in attesa che Open Fiber completi l'infrastruttura FTTH. Un'infrastruttura fondamentale per i cittadini e le aziende del nostro territorio che potranno soffrire di una connessione ultraveloce e stabile. La FTTH, dichiara il consigliere Bruno, consentirà un enorme salto di qualità nell'uso quotidiano dei servizi internet a casa, nelle aziende, nella pubblica amministrazione. Pensiamo, dice, alla videosorveglianza, alla domotica, allo smart working e a tutti gli usi ormai necessari.